Scegliere di usare il tablet in classe non significa escludere l'attività bambini con handicap o gli studi specifici dell'apprendimento. Esistono infatti molte app create appositamente per agevolare i bambini con questo tipo di problemi. In questa lezione ve ne useremo tre. TFA, Toads for Autism, DSA e le funzioni sintesi vocali di Google. TFA è un'applicazione gratuita che fornisce all'utente un insieme di strumenti a supporto di persone affette da un gruppo o altri disturbi per basire lo spirito. Serve per insegnare storie sociali o sequenze di operazioni. L'app può essere utilizzata sia dal bambino che dai genitori o maestri che possono creare, modificare, importare o esportare i contenuti creati. DSA è rivolta a bambini con DSA, famiglie e insegnanti. Offre attività ideate per potenziare l'abilità di lettura e le competenze aritmetiche per un aiuto concreto per le difficoltà di apprendimento. È divisa in quattro diverse sezioni, famiglie, insegnanti, giochi, strumenti. La sezione dedicata agli insegnanti offre una classificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento come dislessia, disgrafia, discalcolia, disortografia. La funzione sintesi vocale di Google è un'applicazione che viene rilasciata gratuitamente all'interno del Play Store e permette di leggere il testo sullo schermo ad altavoce. Questa funzione può essere utilizzata da Google Play Libri per leggere ad altavoce il tuo libro preferito. Google Traduttore per fornire traduzioni vocali e farti così sentire la pronuncia delle parole. Google Traduttore per fornire traduzioni vocali e farti così sentire la pronuncia delle parole.